Ciao! Giochiamo alla ghigliottina del 9 dicembre 2022. Questi sono i 5 indizi. Fare. Teatro. Obbligo. Zona. Stampa. Hai un minuto per indovinare la parola che lega i 5 indizi. 50 secondi. 40 secondi. 30 secondi. 20 secondi. 10 secondi. E, passato un minuto. Hai 5 secondi per scrivere la tua risposta. Tempo scaduto. La parola che lega i 5 indizi è... Silenzio. Grazie e complimenti al vincitore. Ricordati di mettere mi piace e seguirci. Alla prossima! Ciao!